Le fine dei giovani e i boschetti di Betulla Sono il nostro abitato e li facciamo scintille Populi malefici davvero affascinanti Squamme, ferrucose e cinture intorno ai campi Puntini del cappello hanno geometria ordinata E da tu noi cabrioli ne fanno una scorpacciata Noi siamo decorative oltre che pericolose Ma se vuoi farti un bel viaggio Noi siamo le più golose Tanto belle quanto venenose Ma se vuoi farti un viaggio Noi siamo le più golose Tanto belle quanto allucinanti Se ci assaggiate noi vi accontentiamo tutti quanti Ci sono poi degli elementi Per cui il viaggio è assai importante Molte volte sono conti e la cosa è affascinante La manitta per martizio per esempio Tocca sana E se gira nei boschetti Precustendosi la cena Tanto belle quanto venenose Ma se vuoi farti un viaggio Noi siamo le più golose Tanto belle quanto allucinanti Se ci assaggiate noi vi accontentiamo tutti quanti Amanita Muscaria Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti